Buongiorno, io sono Enrico Caprio, sono il presidente del gruppo Piemontese Studi Ornitologici. Il Gipso è un'associazione che è stata fondata nel 1978 e da 40 anni si occupa dei monitoraggi della vifauna in territorio regionale e anche in Val d'Aosta. Il Gipso ovviamente si occupa di uccelli e lo fa in quanto gli uccelli sono degli ottimi indicatori dello stato di conservazione dell'ambiente in grado di rivelarci cambiamenti che possono avvenire sia a livello globale come i cambiamenti climatici che a livello locale. Proprio per questo motivo il gruppo Piemontese Studi Ornitologici porta avanti delle attività di monitoraggio sia con osservazioni che con l'inanellamento a scopo scientifico che è un'attività che è coordinata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'ISPRA, che è l'organo tecnico del Ministero dell'Ambiente. Nell'ambito delle nostre attività abbiamo in essere una convenzione con la città metropolitana proprio per monitorare la vifauna in due aree che sono state istituite dalla Commissione Europea che sono delle zone di protezione speciale istituite proprio per la presenza di specie ornitiche interessanti sia per quanto riguarda la nidificazione che per quanto riguarda lo svernamento. Nell'ambito di queste attività appunto svolgiamo sia attività di inanellamento che censimenti e l'attività del Gipso non si ferma soltanto in queste due aree ma abbiamo anche delle stazioni di inanellamento proprio nel mese di ottobre presso il Colle Vaccera inserite in un progetto nazionale che prende il nome di Progetto Alpi coordinato dal Museo delle Scienze di Torino e dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.